Buongiorno a tutti da Alessandro di 4V d'Italia siamo qui nella nostra officina di Cusago per darvi un piccolo aggiornamento su uno dei tanti restauri che stiamo portando avanti ormai da un po' di tempo e in questo caso siamo decisamente a buon punto non è finita mancano alcune cose tipo le gomme che sono ancora quelle del Carlo Cuder come si dice a Milano e altri piccoli particolari però nella sostanza questa Jeep è praticamente conclusa è un CJ7 del 78 uno Golden Eagle originale e quindi abbastanza raro ha un motore classico 304 8 cilindri che è sicuramente il punto forte di questa Jeep che abbiamo integralmente rifatto è un motore che di suo sviluppa intorno ai 180 cavalli quindi non tantissimi per la cubatura per un 5.000 però una coppia pazzesca ed è veramente emozionante anche solo il suono anzi già che ci siamo magari ve lo faccio anche un attimo sentire ecco uno dei punti di forza proprio come dicevo il motore altri punti di forza che non sono così comuni sono gli interni questi sono degli interni Lewis originali assolutamente conservati li abbiamo appena appena puliti faremo una pulizia ancora più approfondita ma completano diciamo quello che è già era già una situazione di tappezzeria rara e sana e per il resto diciamo grosse novità non ce ne sono ma siamo comunque molto soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto di restauri come questi negli anni abbiamo fatti veramente tanti e continueremo a farne pertanto se avessi una Jeep d'epoca e cercassi un punto di riferimento sia per un restauro integrale quindi frame off abbiamo fatto dei restauri partendo delle situazioni veramente critiche oppure anche solo per una manutenzione ordinaria o straordinaria quindi un restauro diciamo di tipo parziale la nostra officina a tua disposizione per chi non ci conoscesse già siamo a Cusago in Viale Europa 75 mi potete contattare nella maniera più semplice che quella di whatsapp il mio numero di whatsapp è 338 7312 725 vi aspetto Poi! Poi! Ma'sペ free! 5 6 6 7 1 8 6 1 2 1 2 1 1